Per segnalare un'uscita anticipata, vi devo reccare nell'area del registro online dedicata alle assenze, selezionare per data, spostarmi nella casella corrispondente alla data e all'alunno di cui devo segnalare l'uscita anticipata, controllare che il nome dell'alunno sia esatto, controllare la data, selezionare uscita, inserire l'orario di uscita, scrivere eventuali annotazioni, compilare l'ulteriore qualifica dell'assenza, se necessario. Trattandosi di un'uscita anticipata, le uscite anticipate devono essere sempre giustificate, quindi mettere già la spunta su giustificata, selezionare la data in cui si è ricevuta la richiesta di uscita anticipata, selezionare i motivi riportati sulla richiesta di uscita. Fatto questo, salvare. Fatto questo, seguire 1 ora si raffredzi utori, fatele mindsetri tecnologica di uscita. Grazie a tutti.